L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità il disegno di legge predisposto dalla Giunta di Palazzo Donini che disciplina le sagre, le feste popolari e l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento punta a recuperare lo spirito originario del termine sagra attraverso la garanzia della vera promozione delle tipicità locali, enogastronomiche e culturali, nonché una maggiore tutela per i consumatori. E seppure le feste popolari non potranno contenere riferimenti espliciti a prodotti alimentari, vengono previste le stesse percentuali delle sagre per quanto attiene alla somministrazione dei prodotti indicati nei menu, il cui 60% dovrà provenire da filiera corta, chilometri zero e di qualità. Inoltre, per le sagre, almeno il 60% degli alimenti somministrati dovranno provenire da prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Previsto il logo sagra tipica dell'Umbria e dal 2015 un premio annuale destinato alle tre migliori sagre a giudizio dell'Umpli Umbria. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà avere una durata non superiore a 10 giorni continuativi.